Sono giuste le tasse che i cittadini di Altamura devono pagare per la gestione ai rifiuti o sono troppo salate rispetto alla qualità dei servizi che hanno? Io preferirei non esprimere ciò che penso perché sarebbe di dissenso notevole nei confronti di un'amministrazione populista che si è presentata alla città con chissà quali progetti a favore della cittadinanza, mentre invece questo non sta accadendo. Il fatto dei rifiuti solidi urbani con un aumento ulteriore all'aumento precedente lascia veramente interdetti. La Tari è aumentata del 2% mentre la Tasi è diminuita? Io mi auguro che alla fine il dare e l'avere possano equivalersi perché non vorrei che ci fosse poi ugualmente un residuo passivo nei confronti dei cittadini. Ecco, questo è. Grazie a voi. Guarda, lei mi coglie impreparato. Sinceramente non ora vengo a sapere di queste piccole modifiche a riguardo le tasse comunali. Sicuramente la percezione del cittadino rispetto magari anche al servizio che riceve è sempre negativa, nel senso che un aumento dà sempre la sensazione che il cittadino debba essere vessato, debba essere tartassato nel vero senso della parola. Sinceramente rispetto al servizio che io stesso percepisco la tassazione è sempre importante, soprattutto per le famiglie magari meno abbienti o con redditi più bassi. Per quanto riguarda le variazioni evidentemente l'amministrazione così vuole dare il segnale che possa essere più vicino al cittadino in modo da far comprendere che da un lato magari c'è una riduzione dell'attestazione, dall'altra probabilmente un incremento dei costi di servizio. Questo non lo so, però quello che posso dire è che la percezione del servizio è alquanto scadente. Anche in considerazione del fatto che magari si fa tanto parlare di una raccolta differenziata, che comunque qui ad Altamura stenta a decollare. Questo magari potrebbe essere un incentivo anche per il cittadino a ridurre la tassazione, con l'impegno magari di fare una raccolta differenziata. Se gli aumenti sono finalizzati ad un bene collettivo sociale, umanitario, il tutto, insomma, noi saremo un pochino tutti quanti meglio. Solamente che spesso, non so, forse il nostro apporto è insufficiente oppure chi ci gestisce a volte anche in buona fede non riesce a dare un fine che dovrebbe un pochino abbracciare tutti i nostri bisogni e quelle che possono essere le aspettative del popolo altamurano. Grazie. Allora, come commerciante le tasse sono già assai, poi l'aumento della montizia è pure assai, perché già quelle persone stanno tutte morando di fame, devono agirare. Cioè non possono pagare tante tasse perché qua c'è la crisi, non lavora nessuno. Come faranno delle persone per pagare il montizio? È un peccato. Per me non è giusto. Del 2% insomma. Sì, sì, lo facessero stare come sta, perché sono assai. Qua devi adeguare pure le persone, perché le persone, ci sono delle famiglie che non possono mangiare. Quindi, no. No, no. You are my friend, no. Ok.